Oggi prepariamo le polpette nel fornetto doppio. Questo tipo di pentola è molto comodo perché permette di ridurre i tempi di cottura e non fare schizzi in cucina. Inoltre le due metà possono essere separate, quindi abbiamo due pentole, una liscia e una rigata al prezzo di una. La padella fornetto può essere sia rotonda che rettangolare ed è commercializzata da varie marche. Il mio fornetto è di marca Tognana, ma sono famosi anche il fornetto Bernie e quello commercializzato da Casanova. Nella descrizione del video ti lascio il link a quello che ho acquistato io. Ora però andiamo alla ricetta. Per prima cosa trita finemente un mazzetto di prezzemolo. Metti quindi la carne macinata in una ciotola e aggiungi un uovo. Spremi uno spicchio d'aglio con lo spremiaglio e aggiungilo al macinato. Aggiungi un cucchiaio di fecola di patate. Serve ad evitare che le polpette si rompano in cottura. Aggiungi il prezzemolo e dai una prima mescolata l'impasto. Aggiungi ora sale, pepe, qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato oppure di pecorino e poco pangrattato. Mescola quindi il tutto per amalgamare gli ingredienti. Per formare le polpette io mi trovo bene ad utilizzare uno stampo per falafel. Ha due vantaggi. Il primo è quello di non sporcarsi le mani. Il secondo è quello di fare polpette sempre delle stesse dimensioni. Nella descrizione del video ti lascio un link dove acquistarlo. Se non hai lo stampo puoi comunque tranquillamente formare le polpette rotolando l'impasto tra le mani. Una volta formate le polpette, ungì la padella a fornetto e rosolale a calore medio. Trascorse i 5 minuti gira le polpette per rosolarle anche dall'altro lato. Dopo 5 minuti apri il fornetto, aggiungi il vino, abbasso un po' il fornello e continua la cottura per altri 10-15 minuti. Una volta evaporato il vino verifica il grado di cottura delle polpette e buon appetito!